Senti in boccia lui! Guardate qui, guardate, guardate, guardate! Guardate, 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 guardate! Eccolo da qua, vedi! E' il camara in fai! Dici, potrebbero, senti! E' il camara in fai! E' il camara in fai! E' il camara in fai! ... ... ... ... ... ... Un'altra parte, un'altra parte. è il 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.